Il numero di emergenza sanitaria 118 sta per scomparire. Dal 1 novembre, per chiamare tutti i numeri di emergenza, le chiamate saranno prima smistate dal centralino del 112. È una decisione presa dal Senato nei giorni scorsi insieme al Consiglio delle Comunità Europee del 1991. Ad insistere sull'attivazione del nuovo servizio di emergenza, la commissione consultiva istituita dal ministro Angelino Alfano per garantire maggiore soccorso e sicurezza in vista del giubileo. Ma si può davvero parlare di sicurezza se anche 10 secondi in più di telefonata possono essere vitali? Il numero 118 intanto non esisterà più e si parlerà di 7. A parlarne ai nostri microfoni il direttore del 118, Mario Balzanelli. La normativa europea prevede la centralizzazione di tutte le richieste per emergenza di un numero unico che è il 112, verrà considerato il numero unico dell'emergenza per tutto il continente europeo. Certamente il flusso delle telefonate che convergerà su centrali regionali del 112 affidate ai carabinieri vedrà in caso di emergenza sanitaria la chiamata essere inviata direttamente alle centrali operative del servizio di emergenza territoriale del sistema sanitario nazionale, cioè quello che oggi noi chiamiamo il 118, che continuerà quindi a lavorare nello stesso medesimo modo, soltanto che la telefonata invece di pervenire direttamente dal cittadino utente verrà deviata dalla centrale operativa del 112. Il 118 quindi come servizio di emergenza territoriale del sistema sanitario nazionale rimane inalterato nell'organizzazione. Le tempistiche che noi garantiamo ai cittadini per quanto riguarda la sfera di nostra competenza rimarranno assolutamente immodificate e quindi sul piano degli assetti non ci saranno delle differenze sui profili di assistenza ai pazienti in pericolo di vita.